Secondo le statistiche di youtube solo l'1% di chi guarda i miei video è iscritto al canale Mi aiuteresti molto se decidessi di iscriverti ora, grazie Porco di quel diaz! E che cristo! Ma sei serio? Però abbiamo fatto la... La drip non regali abbonamenti! Grazie drip! Ma non faccia! Ragazzi troppo forte! Non potevo pusharlo mi rompeva il culo! Dio santo! Che cazzo sei? Porco diaz! Oh zio sono le 10 del mattino! Ma stai calmo! Madonna! Madonna! Però comunque god! Eh ho capito! Ma guarda come è in cocaina questo! Oh! Addio caro! Ma stai bene zio sei in pubblica pronto! Niente in cocaina piena questo raga! Guarda guarda guardalo! Ma stai calmo! Ma stai calmo! M***a se muori godo! No ragazzi questo qua è in cocaina! Vi prego sparategli al volo! Vi prego chillatelo al volo vi prego! Meno male Gesù Cristo! Meno male! Sì questo poi con che skinstone sta giocando! Merda! Torco diaz non mi mette giù il bunker! Cristo Dio! Cristo Dio! Ma vai a ballare su quel cazzo di cadavere di tua madre! Dio caro! Dio caro! Capirai mia moglie cosa vuoi che dice! Perché pensate che lei non se li guarda i cazzo! Cioè no aspetta! I begli uomini! Sai cosa vuol dire! Andiamo! Ma ragazzi voi dovete capire che la fiducia in coppia è data anche dal fatto che siamo comunque persone normali! Anzi è anormale non desiderare di vedere qualcosa di diverso ogni tanto! Vuol dire che non stai molto bene! Cioè nel senso... Seriamente l'antenna! Andiamoレvatore! Oh cazzo! Prezis the world no e le bebeer! Forecisde is the world no e le bebber Prezis the world no e le bebeer! So ne prezis the world no e le bebeer! increase the world no e le bebeer So the prezis di world no e le be沒! Prezis the world no e le be.. SurfiKe Vai 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 ぉ oh ma che cazzo è è perca di retto di merda non ci riprovo un cazzo di niente del dio caro porco di quel diaz ci può stare ci può stare si ha preso le mie ora che sai dire possiamo gentilmente andare avanti for fucking cortesi to continue and take the fucking lama medals porco diaz ho perso anche 500 patate eccola se volete avvicinarvi a questo man vi invito a provarlo e a scoprire tutte le potenzialità e ovviamente a seguire la pagina di magic italia tu devi seguire non so perché parli non volevo sapere perché il gajalf mi parla tipo che babbaro pakistano non non la volevamo sapere questa cosa allora allora mi lo merda puttana eva troia merda non va bene un cazzo puttana galera puttana galera puttana galera galera merda troia e buongiorno buongiorno a tutti ragazzi buongiorno ciao benvenuti alla live mattutina dedicata a fort night come la va ragazzi come la va ci siamo anche oggi facciamo grafica raga giochiamo a fort night c'è un pc da migliaia di euro utilizzato esclusivamente per giocare a fort night merda sostenerebbe le schede grafiche e i processi più pesanti senza troppi problemi no gioco a fort night ma va bene così utilizzo cpu 3% anche se a lei non la saluto signor drip non è vero cerco di salutare tutti magari non riesco a vedervi tutti uè capi filato mai fatto brutta merda gente ragazzi non mi mette giù le case doll certo saluto nico e leo ciao ragazzi impulso impulso ancora il grande classe eh sì eh sì qua la giocata perfetta qui asal al faraglas bla bla sniafroglas questa è la grande win questa è la grande win ho cominciato a distribuire cazzo a destra e a sinistra signori io non merda il grande rank qua abbiamo fatto il grande rank jack io la ringrazio allora le auguro una buona continuazione intanto la bet si vince per il 20% delle persone in campo aperto il king con tutte le insenature figa sai qui i snar scrawl ciao jack alla prossima grazie ciao ciao allora buongiorno e benvenuti all'autosalone xuder dove le ma dove le macchine vengono ricondizionate prima di essere vendute oggi abbiamo da proporvi tre modelli che comunque possono essere e stuzzicare il vostro interesse abbiamo due supercar come vedete le famosissime fesclari una bianca con strisce rosse una invece giallo taxi con una meravigliosa striscia bianca che dà quella grinta di cui avete bisogno la mattina ma per i più esigenti per quelli che odiano il traffico urbano invece abbiamo mister beer no jack la sua sfida in realtà l'ho letta ma non la sto accettando caro lei non è né abbonato né donatore probabilmente è scammer se io faccio due kill di piccone e muoio perché mi sparano e lei mi scamma io poi dovrei maledirle tutta la generazione quindi evito non mi sembra eh capito evito già la radice evitiamo bravo mi sei piaciuto evito già la radice no capisce e non pensiate che se non scammate non vi maledice comunque la generazione no però nel senso non mi sembra neanche una cosa no capisce